Mi è sempre piaciuto andare in bici, questa è la mia prima bicicletta, come si chiamava? Una saltafoss, da bambini l'entendavamo come saltafossi, era quindi una signora bici, era rossa fiammante e andava davvero dappertutto. Ciao, un fanale nuovo per la mia saltafoss! Arriverà domani! Ciao, due echi di prosciutto cotto per la mia mamma! Passa più tardi! Passiamo ora alla mia ultima bicicletta, leghi te, leghi te! Si è rotta la luce delle scale e non si vede niente, adesso entriamo di là e riusciamo a vedere tutto. Dalla saltafoss passiamo alla mia nuova bici. Questa bici mi permette di allenarmi in modo completo, quindi la parte sotto normalmente con i pedali e la parte sopra con il manubrio apposito. Ho già fatto le prime prove, come potete vedere è un po' sporca, è un po' scassata, il freno che mi è partito, però domani lo utilizzerò più a lungo, sempre in città.